Vignola Carrelli, da oltre 30 anni al vostro servizio. Nata come officina autorizzata nel 94, diventa a concessionaria Steel, leader a livello mondiale nel settore dei carrelli elevatori. Vignola Carrelli effettua vendita, noleggio e assistenza tecnica di carrelli elevatori, endotermici, macchine da magazzino, trattori e trasportatori. I carrelli elevatori Steel, 3 e 4 ruote comportate da 1 a 10 tonnellate, sono sicuri, silenziosi e non inquinano. Vengono impiegati soprattutto per operare all'interno di magazzini, containers e automezzi pesanti. Da Vignola Carrelli troverete una vasta gamma di carrelli elevatori con attrezzatori e accessori vari per il noleggio a breve o lungo termine. I carrelli messi a disposizione dall'azienda sono coperti da garanzie e rispettano le vigenti normative di sicurezza. Gli addetti prepareranno per voi proposte personalizzate in base alle vostre esigenze. Vignola Carrelli vi aspetta a Gallarate in via Cappuccini 40.